l'italiano secondo il metodo natura capitolo i capitolo i la famiglia rossi carlo rossi è un uomo teresa rossi è una donna bruno è un bambino pietro è un bambino maria è una bambina anche pia è una bambina bruno e pietro sono due bambini maria e pia sono due bambine è un bambino pietro sì pietro è un bambino anche bruno è un bambino è una bambina maria sì maria è una bambina sono bambini bruno e pietro sì bruno e pietro sono bambini sono bambine maria e pia sì maria e pia sono bambine è un bambino carlo rossi no carlo rossi non è un bambino è un uomo è una bambina teresa rossi no teresa rossi non è una bambina è una donna un bambino è una bambina sono due bambini due bambini e una bambina sono tre bambini anche un bambino e due bambine sono tre bambini bruno pietro maria e pia sono quattro bambini carlo e teresa rossi bruno pietro maria e pia sono una famiglia la famiglia rossi carlo rossi è il padre teresa rossi è la madre bruno è il primo figlio pietro è il secondo figlio i due figli sono bruno e pietro maria è la prima figlia pia è la seconda figlia le due le due figlie sono maria e pia bruno rossi è figlio di carlo rossi anche pietro rossi è figlio di carlo rossi i due bambini bruno e pietro sono figli di carlo rossi il primo figlio di carlo rossi è bruno il secondo figlio è pietro bruno e pietro sono figli anche di teresa rossi i due bambini sono figli di carlo e teresa rossi maria e figli di carlo rossi è anche pia è figlia di carlo rossi mania e sono figli di te rossi maria e pia sono figlie di carlo rossi la prima figlia di carlo rossi è maria la seconda figlia è pia maria e pia sono figlie anche di teresa rossi le due bambine sono figli di carlo e teresa rossi quanti sono i fili di carlo rossi i fili di carlo rossi sono due quante sono le figlie anche le figlie sono due carlo rossi ha due figlie e due figli due figli e due figlie sono quattro figli quanti figli ha carlo rossi carlo rossi ha quattro figli bruno pietro maria e pia quanto figli e quante figlie due figli e due figlie quanti fili hanno carlo e teresa rossi carlo e teresa rossi hanno quattro figli i quattro bambini bruno pietro maria e pia sono fili di carlo e teresa rossi carlo rossi è il padre di bruno di pietro di maria e di pia teresa rossi è la madre di bruno di pietro di maria e di pia chi sono i due figli di carlo e teresa rossi sono bruno e pietro chi sono le due figli di carlo e teresa rossi sono maria e pia chi è il primo figlio bruno o pietro e bruno chi è la seconda figlia maria o pia e pia chi è il padre di bruno e carlo rossi e chi è la madre di bruno e teresa rossi bruno è il fratello di pietro pietro è il fratello di bruno e pietro sono fratelli maria è la sorella di pia pia è la sorella di maria maria e pia sono sorelle maria e pia sono le sorelle di bruno e pietro bruno e pietro sono i fratelli di maria e pia quanti fratelli ha maria ha due fratelli quanti fratelli ha bruno uno o due bruno ha un fratello chi è il fratello di bruno il fratello di bruno è pietro quante sorelle ha pia una o due pia ha una sorella chi è la sorella di pia la sorella di pia è maria quante sorelle ha pietro due o tre ha due sorelle pietro e maria sono fratello e sorella quanti fratelli hanno maria e pia hanno due fratelli chi sono i due fratelli di maria e pia chi sono i due fratelli di maria e pia sono bruno e pietro bruno è fratello di maria e pia anche pietro è fratello di Maria e Pia. Quante sorelle hanno Bruno e Pietro? Bruno e Pietro hanno due sorelle. Che sono le due sorelle di Bruno e Pietro? Sono Maria e Pia. Maria è sorella di Bruno e Pietro. Anche Pia è sorella di Bruno e Pietro. I quattro bambini sono fratelli e sorelle. Carlo Rossi è il marito di Teresa Rossi. Teresa Rossi è la moglie di Carlo Rossi. Carlo e Teresa Rossi sono marito e moglie. Quanti figli e quante figlie hanno Carlo e Teresa Rossi? Hanno due figli e due figli. Carlo e Teresa Rossi sono i genitori di Bruno, Pietro, Maria e Pia. I genitori sono il padre e la madre. Chi è il marito di Teresa Rossi? È Carlo Rossi. E la moglie di Carlo Rossi? È Teresa Rossi. Chi sono Bruno e Pietro? Sono i figli di Carlo e Teresa Rossi. Chi è Carlo Rossi? È il marito di Teresa Rossi? È il marito di Teresa Rossi. Il padre di Bruno, Pietro, Maria e Pia. Chi è Teresa Rossi? È la moglie di Carlo Rossi. E' Sì, è la madre di Bruno, Pietro, Maria e Pia. Ha un fratello, Bruno. Sì, Bruno ha un fratello. Ha fratelli, Maria. Sì, Maria ha due fratelli. Ha due sorelle, Maria. No, Maria non ha due sorelle. Ha una sorella e due fratelli. Grazie a tutti.